Le ACLI, Emilia Romagna e gli scout della GESCI hanno preso parte questa mattina alle 9.30 alla commemorazione per l'anniversario della morte di Don Menzoni, figura simbolo del cattolicismo italiano e prete della chiesa Ravennate, ucciso per mano dei fascisti nel 1923. In piazza Garibaldi è stata posta una corona sotto la lapide in ricordo di Don Menzoni e letto un brano tratto dagli scritti dell'antifascista italiano. Alle 18 sarà celebrata una messa in suffragio presso la parrocchia d'Argenta, celebrata da Monsignor Larcivescovo di Ravenna e Cervia Lorenzo Gizzoni, a cui prenderà parte anche l'assistente nazionale a GESCI Alessandro Salucci.